300 metri quadri di spazio espositivo, 35 operatori turistici abruzzesi, tre giornate dal 4 al 6 febbraio. Sono i numeri essenziali della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, la più importante manifestazione nazionale di settore. Un'occasione formidabile per mettere in vetrina al pubblico e agli operatori la grande ricchezza regionale in termini di offerta turistica con molti approfondimenti tematici all'insegna di due temi principali, la cultura e l'enogastronomia, come conferma l'assessore regionale Daniele Damario. Un focus particolare sarà sulla Notte dei Serpenti, una manifestazione importante che quindi verrà ripetuta nel 2024, che ha avuto anche una grande ribalta televisiva. Daremo tanta attenzione anche all'enogastronomia locale con la presenza di 4 dei 5 chef stellati abruzzesi, con l'Accademia di Nicoromito. L'anno scorso la regione puntava molto sulla sorpresa, sullo stupore. Quest'anno? Il claim è sempre quello, Abruzzo che bella sorpresa. Non l'abbiamo cognato noi, ce l'hanno detto i turisti che per la prima volta si recavano in Abruzzo. Noi vogliamo rendere sempre più visibile l'Abruzzo per far sapere che c'è una regione al centro d'Italia facilmente riconoscibile, facilmente raggiungibile, che ha tutto quello che serve per far felice un turista. Lo stand Abruzzo prevede un'area istituzionale, la sala conferenza, la zona cooking show e le postazioni degli operatori arricchita da un sistema multimediale con le immagini più suggestive dell'Abruzzo. Non mancheranno assaggi di prodotti tipici regionali accompagnati da vini e sfumanti del Consorzio Tutela Vini. Fondamentale inoltre è la collaborazione con le Camere di Commercio Regionali. Ancora da Mario. Assolutamente sì, è un protocollo che portiamo avanti da qualche anno. Oramai quando ci muoviamo non ci muoviamo più come regione Abruzzo, ma ci muoviamo come sistema Abruzzo e quindi mettere a regime le risorse che tutti insieme possiamo mettere sul piatto per promuovere l'Abruzzo sicuramente ci aiuta.